Carissimi parochiani, il Signore risorto che ha affrontato e sconfitto il peccato e la morte possa veramente donarci il coraggio di affrontare le fatiche della vita e offrirci la capacità di valorizzare e gustare ogni momento della nostra esistenza sperimentando che Lui con la Sua risurrezione ha vinto sulle nostre sofferenze e ci dona la gioia dell'essere uomini e donne pensate e amate da Dio Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua